Bene amici, recensione flash di questo Motorola Razr 50 Ultra che bello aprire e chiudere il telefono retaggio del passato soprattutto nelle chiamate, questa è una delle cose che mi è piaciuta recensione flash perché a New York vi ho raccontato cosa c'è nella scatola, la scheda tecnica ma anche una giornata passata con lui ora, le cose che mi sono piaciute tanto e quelle che mi sono piaciute meno il display esterno è forse la cosa che mi è piaciuta di più dà tanto senso a questo smartphone che può essere usato per il 50% dei casi a cover chiusa per esempio applicazione per aprire il box ne ho aperta una a caso oppure navigazione con le mappe vedete quanto è grande si riescono comunque a fare cose ma anche banalmente arriva una notifica si schiaccia lì, si schiaccia qua si può leggere la mail, il whatsapp, il telegram si può rispondere anche in maniera abbastanza semplice perché il display è sufficientemente grande per poter scrivere poi ok rimangono magari poche righe per vedere il testo ma poi basta se vogliamo avere una visuale più grande aprire e voilà abbiamo la possibilità di usare il display da 6,7 pollici però questo 4 pollici davvero nell'uso quotidiano lo tirate fuori dalla tasca è comodo in tasca perché non è particolarmente spesso i bordi sono smussati e potete fare cose altra situazione che mi è piaciuta è l'utilizzo a tenda così appoggiato sulla scrivania con lo luizos display che mi dice l'ora, mi dice la batteria e se tocco o se mi avvicino mi fa vedere anche le notifiche comunque me le fa vedere sempre qua in un angolino l'ho trovata un'altra funzione diciamo utile e poi i materiali col fatto che la parte posteriore in questa finta pelle vegana, silicone insomma chiamatela come volete ma grippa tanto quando lo tenete in mano fa un bel grip non scivola, non sguiccia e poi il fatto che le due parti siano vedete qua bombate fa sì che il dito riesca a incastrarsi dentro e a spingere per aprire lo smartphone ecco da questo punto di vista migliorate le cerniere ma avrei preferito forse una posizione intermedia dove andando ad aprire così il telefono non mi si richiudesse ma rimanesse in posizione per poi aprirlo velocemente comunque con una mano avete visto si riesce a fare tranquillamente comodo anche il sensore messo qua nel punto giusto di impronta digitale che è anche pulsante di blocco sblocco si può decidere se sbloccare il telefono semplicemente sfiorando oppure schiacciando io ho preferito schiacciando perché non ho degli accensioni o degli spegnimenti involontari ma solamente quando schiaccio mi si accende bello anche il display interno è uno degli smartphone pieghevoli dove la piega si vede meno ovviamente un pochino si vede ma non tantissimo anche perché la luminosità è molto alta di contro questo plastic OLED interno soffre un po' le ditate è un pochino poco oleofobico ma vabbè molto bene che finalmente sia impermeabile e poi c'è Gemini che mi è piaciuta quindi l'integrazione con l'intelligenza artificiale di Google arriverà anche la sua intelligenza artificiale con un aggiornamento software probabilmente verso la fine dell'anno ma avere la possibilità di schiacciare a lungo il pulsante qua di fianco vedete e ciao cosa posso fare oggi a Milano? avere una risposta vedete che è un pochino più articolata rispetto al banale assistente vocale beh è una cosa che mi è piaciuta non trovo Gemini particolarmente intelligente su alcune cose fa ancora fatica ma per un utilizzo così basic ci sta e mi piace tra l'altro imposta sveglia alle 15 come vedete se gli chiediamo cosa ne rende il telefono switcha direttamente sull'assistente di Google molto luminoso display nessun problema di utilizzo all'aperto al chiuso un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo la potenza del mio voce la ricezione la eSIM vabbè ma quella ormai sui telefoni top di gamma ce l'aspettiamo ma c'è un'altra cosa che mi è piaciuta per i telefonatori seriali sentite volume alto non si può registrare la chiamata ma poter mettere giù e rispondere aprendo e chiudendo è veramente un gran bel valore aggiunto e invece le cose che mi sono piaciute meno le fotocamere devo dire un po' sottotono il software non ha particolari guizzi ve lo faccio vedere al volo timelapse video foto ritratto foto pro qua ci sono le altre funzioni che troviamo tendenzialmente anche sugli altri Motorola ma se vi faccio vedere la galleria delle immagini fatte allora stiamo vedendo delle foto qua con tanta luce a New York un pezzettino di video dove non è proprio il massimo a livello di proprio qualità dell'immagine video fatto in 4k ho provato anche full hd alla nuova versione del software di tesla che praticamente la fa guidare da sola anche in città cosa che è possibile solamente negli Stati Uniti se andate a fare un test drive ho fatto il play da questo telefono andate a vederlo e diciamo che le foto sono da medio di gamma non da top di gamma anche con poca luce non si comporta benissimo poi a me sinceramente non ha fatto impazzire la scelta di mettere una 2x rispetto alla grande angolare sarà che gli zoom vengono meglio ok fino al 5x c'è un'interpolazione che però non fa percepire un calo di qualità ma avendo una cam da 50 megapixel anche la 1x diciamo che fino al 3x sarebbe arrivata senza interpolazione la grande angolare non si riesce a sostituire da dire però che le gesture motorola sono fatte molto bene ci sono un sacco di opzioni intelligenti e poi la possibilità di fare delle fotografie d'angolazioni particolari beh questo 4 factor lo permette avrei forse preferito al posto del flash magari una terza cam grande angolare però forse avremmo avuto meno spazio di sotto non lo so comunque il comparto cam rimane da medio di gamma invece mi è piaciuto molto l'altoparlante anche nella parte music perché pompa ha addirittura un po' di bassi e l'altra cosa che mi è piaciuta molto è il feedback della vibrazione perché è bello potente bello preciso sentite Gigi Doug come suona bene e poi la cosa carina è anche l'animazione sul display esterno che è personalizzabile e proprio la personalizzazione anche a livello di cosa fare app per app quando si apre il telefono quando si chiude il telefono cioè se continuare a far eseguire quell'applicazione quando si chiude il telefono o quando si apre il telefono è una cosa che è completamente personalizzabile e le personalizzazioni sono veramente il cuore di questo telefono sia per quanto riguarda il display interno sia per quanto riguarda il display esterno altra buona notizia arriva dalla batteria ho fatto qualche screenshot utilizzo standardizzato qua a Milano sempre attorno alle 4 ore 4 ore e mezza sera che è veramente il mio uso standard di una giornata stress telefono che non è mai arrivato sotto al 19-20% di batteria merito non tanto la batteria che è da 4000 mAh non tanto il processore che comunque è molto equilibrato non scalda praticamente mai non soffre mai è molto veloce è fluido reattivo a far girare tutto anche le applicazioni processore centriche ma al fatto che tendenzialmente gran parte delle notifiche quelle accensioni rapide oppure le risposte al volo ai messaggi si gestiscono direttamente dal display esterno che ovviamente è un pochino più piccolo di quell'interno e quindi consuma meno batteria il trittico gira benissimo nessun problema di fluidità di velocità unica cosa che Instagram non è ben ottimizzato se si fanno le storie partendo dall'applicazione facendo un video con l'app fotocamera poi postandolo va bene ma le storie così un po' laggosette un po' di scarsa qualità ma velocità generale veramente nulla da dire tutto scorre fluidamente non ci sono lag non ci sono problemi anche di ricezione di wifi offerte.club scaricatelo e scrivetevi si fanno degli affari perché arriva il Prime Day insomma gira bene c'è poco da dire quanto costa 1199 euro Android 14 3 anni di aggiornamenti garantiti 4 di patch di sicurezza spero che arrivi presto la moto AI per dare un giudizio anche da quel punto di vista sull'intelligenza artificiale di Motorola ma su tutto il miglior pieghevole oggi in commercio per usabilità per il fatto che da piccolo diventa grande i flip sono una forma un form factor che secondo me ha tanto senso per il buon funzionamento generale insomma mi piace tanto ripeto unica cosa un po' sottotono le fotocamere un saluto da Andrea Galazzi punto com ciao